vorrei riuscire a completare la sua aspirazione quindi carriera controlla i follower dell'attività parallela basta kaira ti prego tesoro cosa potrebbe fare kaira io direi che potrebbe leggere un bel libro leggi qualcosa grayson invece potrebbe visto che è spaventato un po come dire stressato dallo spavento potrebbe andare ad allenarsi un pochino fai pugilato un pochino grayson ho detto ha accumulato cinque follower per l'attività disinfluencer avere più follower frutterà prudence regali più belli dalle aziende amiche ok come sta andando caro ok va bene perfetto giuseppe morosini abbiamo organizzato un piccolo incontro prima del ballo studentesco ti va di partecipare no in realtà no non odiarmi tesoro ma non non andremo al ballo studentesco perché voglio godermi gli ultimi momenti in casa di tuo fratello quindi no mi dispiace tanto comunque carriera facciamo creare una recensione tecnologica e deve spostarsi di là ma perché non può farlo da qua quanto mi urta questa cosa raga mamma mia è assurdo comunque questa la sta sviluppando perfetto abbiamo trovato il sistema lui anche si sta dando da fare e quindi come dicevo il tratto sicuro lo vedo proprio adatto a lui perché è pronto per un nuovo cammino è pronto comunque per un nuovo percorso di vita quindi secondo me ci sta ci sta questo questa aggiunta della personalità perché non è un cambiamento è un'aggiunta scoperto un tratto in più di sé graison devi essere ultra fiero è iniziata la fiara di finch week va bene senti graison vogliamo fare una cosa perché io da una parte tutti questi punticelli li vorrei trasformare in pozioni per darli a nazzume visto che ora a nazzume prudence quando andrò all'università è un vulcano di fantastiche iniziative imprenditoriali e ora può anche promuovere la propria attività pubblicizzandola online no in discoteca no vogliamo ripeto restare in famiglia per le ultime no nell'ultimo tempo che passerà con noi per il momento nazzume però da una parte vorrei dargli forse cioè non so se vale la pena dargli qualche tratto in più scusate negozio dei premi perché insomma lui questi non li darei mai cioè praticamente sì ma poi non fanno più niente non non mi piace non mi piace autosufficiente non ho mai bisogno per carità albero del denaro sapete che quasi quasi sarei tentata come una sorta di lascito no di graison senza preoccupazioni non diventano mai tesi non sarebbe male contatti antisettico abili a baciare giusto se c'è qualcosa che proprio lo vedo e dico sì c'è questo è proprio di graison altrimenti direi di eh forse mentore perché effettivamente graison raga cioè dai ce lo vedo essere un mentore comunque è molto anziano al momento cioè no quindi sì basta tutto il resto lo trasformerò in punti eh non c'è scusate in pozioni perché così eh nazzume se le ritroverà per l'università che raga secondo me ne avrà un bisogno proprio estremo tesoro che stai facendo? eh carriera? pubblicizza l'attività no creiamo un'altra cosa tecnologica qua cerca di arrivare al livello 4 come sta andando la tua app? eh ce n'è di lavoro ehi graison basta ti sei stancato fin troppo vieni qui usalo ti fai un bel bagno con la schiuma in modo che ti recuperi e stai tranquillo tu che stai leggendo? leggi affinare l'occhio della mente tra l'altro una lettura inerente ehm il benessere no? che casino però che fate tutti in questa casa mamma mia è un casotto vero un super casotto vero oh quindi scusate devo finire di leggere le oggi proprio mi sto perdendo è che sono presa da fargli fare tante cose a tutti quanti e automaticamente poi no? ci si distrae un po' allora Natsume leggiamo le regole della tua generazione oh scusa Natsume dove sei? qua intanto lo controllo allora dunque uno raggiungere il livello 10 dell'abilità di ballo fatto raggiungere due raggiungere il livello 10 in due abilità a vostra scelta quindi dovremo massimizzare sicuramente ehm la logica direi e forse anche il carisma non lo so devo vedere 3 raggiungere il livello 8 in 6 abilità e questo se non ricordo male è proprio un obiettivo se il festival dell'idilio non ce ne frega niente tu continua a lavorare tesoro mio dovrebbe essere dicevo proprio un obiettivo della sua no eh sì il livello 8 di 6 abilità quindi ci siamo poi 4 divorziare e in seguito risposarsi con il medesimo sim e questa raga sono proprio curiosa cioè voglio proprio vedere 5 trasferirsi in almeno 3 quartieri diversi nell'arco della vita quindi avevo scelto l'adolescenza la faceva nella casa di famiglia l'età di giovane adulto all'università quindi comunque a brychester l'adulto a san maishuno e la vettaglia sarebbe tornato nella casa di famiglia quindi ehm sì poi si vedrà comunque sono queste alla fine le fasce d'età anche perché in realtà lui da giovane adulto farà sia brychester che ehm willow creek perché l'ospedale si trova a willow creek quindi no vorrei farlo trasferire lì e quindi sono queste sono questi meglio questi non queste gli obiettivi che dovrà raggiungere il nostro natsume e io sono un po' emozionata in realtà per questa nuova generazione non per il semplice non solo per il semplice cambio di generazione ma proprio perché ehm andremo a fare qualcosa di totalmente nuovo è la prima generazione che lascia casa rainbow eh dopo quattro generazioni che hanno vissuto qui raga vi assicuro che è tosta cambiare cerca di calmarti grayson ti prego poi vieni qui e ti guardi i notiziari vieni a vedere cosa accade nel mondo va l'abbiamo terminata sta app mamma raga è un parto questa app tra l'altro lui sta per massimizzare cioè sta per sta andando verso la massimizzazione il livello 10 della programmazione quindi quindi e vorrebbe giocare a un videogioco ok va bene tanto qua finché non ti faccio iniziare la carriera non so se potrei farle combaciare più che altro ma soprattutto io vorrei come dicevo prima dargli un vantaggio e se inizia la carriera adesso sì non avrebbe lo stesso vantaggio che potrebbe ottenere laureandosi no? è normale perché lì avrebbe una laurea quindi avrebbe un vantaggio maggiore fai una ricerca sul piano d'impresa vediamo ah pure così ok ora facciamo a questo punto visto che ne hai scritte 3 carica la recensione tesoro appena avrai finito ok in assieme intanto mi ha raggiunto il livello 6 di carisma basta perché altrimenti insomma ti rompi le scatole a fare solo quello e dovremmo concentrarci su un'abilità no su un'abilità che è a livello 5 quindi o il videogioco o la forma fisica o sì videogioco forma fisica sostanzialmente perché poi c'è quella di scrittura non lo so vogliamo fare un po' di una telefonata prima la facciamo questa telefonata che dici allora anzitutto riprenditi il computer perché hai una sorella un po' impicciona secondo me quindi mai lasciare il computer in giro è vero che non dovrebbe cioè non conosce la password non dovrebbe riuscire ad avere l'accesso ma qua a me dire mai dopodiché facciamo parla chiacchiera con e chiamiamo Aurelio ehi amico che musica tira da quelle parti ma non era che aria tira una volta scusami Natsume sì ho sbagliato il modo di dire ok va bene sei partito proprio col chiede giusto tesoro forza sbrigati a finire sta cosa oh dobbiamo caricarle eh devi arrivare al livello 4 prima che io me ne vada devo assolutamente appari su tana del lama cos'è sta roba ah il piano di impresa straordinaria straordinaria vai carica io l'ho fatto giusto per farle svolgere un'attività in più non sapevo di cosa si trattasse a dire il vero è andato bene chiacchiera ok è paralizzante questo sì ma Natsume muore dalla voglia di parlare con il sim per cui ha una cotta clicca sul sim per cui Natsume ha una cotta e scegli un'interazione sociale quindi lo dovresti invitare qui un lavoro eroico prudenza guadagnato 12 follower livello 3 dell'abilità di imprenditoria guadagnare influenza e denaro in vari modi è fondamentale se prudenza vuole davvero dominare il mondo eh non esageriamo a tale scopo ora può sviluppare un piano di impresa lo invitiamo che dite dai poco prima che che se ne vada no ci sta secondo me invita nel lotto attuale Aurelio che è diventato nel frattempo un giovane adulto aspetta un attimo perché non vorrei mai che capitassero cose strane è vero che tu hai la cottarella ma si si vede raga che è passato d'età si vede proprio che è passato d'età è un perfezionista amante della musica il tratto è sconosciuto è un giovane adulto è cresciuto con le unghie nere e lui è una cotta quindi si lo invitiamo invita nel lotto attuale vai Perun vorrebbe venire a te ma certo tesoro che puoi venire tutte le volte che vuoi venire a trovarci sempre e comunque sai pensavo visto che poi io partirò per l'università non so se Aurelio partirà anche lui per l'università però dice magari potremmo trascorrere un po' di tempo insieme sai prima che io me ne vada beh sì perché no vuoi venire a trovarmi immaginiamo no perché mandarle in giro con questo tempo poi nel frattempo voglio scusate il gioco di parole ma voglio anche concentrarmi su lei perché insomma devo essere sicura che raggiunga il livello 4 in modo tale che non appena potrà eh al lavoro fra 59 minuti ma non ce la faremo mai quindi lavora da casa tesoro parla con un sim amico dell'attività 10 simoleon abbiamo guadagnato dalle 21 alle 23 oh è arrivata quindi smettila vieni ad accoglierla facciamo amichevole affetto abbraccia affettuosamente un lavoro eroico ho prodotto in seconda 4 follower eh beh piano piano dai oh no è stordita che succede tesoro chiedete della carriera un attimo perché altrimenti devo entrare io nell'unità familiare e impostargliela allora sblocchiamo tesoro entra in casa tesoro dai facciamo che azioni forma un gruppo con purun la portiamo in casa tesoro direi che puoi anche smetterla e andartene in bagno mamma mia cioè da sola dovresti rendertene conto quando devi andare in bagno no vabbè andate dentro Grayson ma piove io non ho parole mi fanno mi fanno impazzire proprio tu che stai facendo stai carica la recensione su ma quando carichi la recensione sviluppi un pero di niente ok quindi carriera e facciamo crea una recensione tecnologica peccato che possiamo creare solo quelle tecnologiche però che dobbiamo fare Aurelio sta arrivando vogliamo provare a azioni forma un gruppo Aurelio Aurelio io lo vorrevo portare qui quindi magari facciamo vai qui insieme lo portiamo all'esterno per non far sì ma dove stai andando in bagno vabbè tu hai finito no perfetto quali sono gli altri step che devi raggiungere raggiungere lo 5 e trascuri 100 ore al computer eh poco ti manca secondo me qui cosa abbiamo esercita nella programmazione ma sai invece che puoi fare fai una cosa esci dalla tana perché insomma esercitarti nella programmazione puoi farlo sempre intrattieniti con purun cioè potresti giocare con lei quindi gioca una partita multigiocatore my sims racing giochiamo con purun grayson e kaira dai li coinvolgiamo tutti è ora di cena dovremmo effettivamente pensare a cenare però ora sono concentrata su aurelio e e natsume ah giusto lui non ci esce qua scusami vai qui insieme qual è il problema eh allora amichevole affetto abbracciare no però esprimere ammirazione si del tipo ehi quanto tempo è che non ci si vede aurelio e lui è flertante ah però ah caro aurelio allora impara a conoscere perché vorrei capire anche l'ultimo tratto chiedigli della sua giornata magari lo puoi adulare del tipo si in forma il passaggio il passaggio d'età ha fatto bene anche a te vedo allora ah ma l'aria aperta e magari lui potrebbe lamentarsi della pioggia del tipo dire guarda mi dispiace tanto che dobbiamo stare rintanati qui e che purtroppo c'è questa pioggia musica americana e musica retro ma c'è la cotta scusa guardatelo lui come si lascia trasportare insomma sono stato un lama magari a farti venire qui con questo temporale no e perché scusami guardate che carini fatevi una bella partitozza io devo capire lei raga cosa fa nella vita perché se non fa niente io potrei valutare è lei adulta però è già parecchio più grandina la vorrei sistemare lei raga è appena diventata adulta ha 42 giorni davanti io la vorrei sistemare sì 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 non ha un lavoro come potete vedere non ma perché non risulta ah beh è giusto la sua madre non era Valeria quindi non lo so non lo so in realtà voi che dite io penso proprio che la sistemerò ma scusami mi stai scrivendo con lo schermo spento tesoro crea sta recensione tecnologica devo farti arrivare al livello 4 come sta andando oh bel carisma non male discuti di enigmi logici magari potresti imparare a conoscere anche i suoi interessi quindi anche a te è andato bene insomma ti sei diplomato alla grande no ormai e lui sì sì certo è andato tutto bene conversazione profonda devo dire che ha anche dei tratti non proprio malvagi almeno per quanto mi riguarda cioè Aurelio vi ricordo è un perfezionista amante della musica e ama l'aria aperta diciamo che magari la nota un po' no può essere il perfezionismo l'essere perfezionista magari che può a volte diventare un tratto negativo perché se si è troppo ossessionati dalla perfezione no quindi magari quello può essere visto anche come un tratto tendenzialmente negativo diciamo così chiedi del gusto musicale lui è flertante comunque ma lui no quindi condividi delle idee brillanti propone un pianofole del tipo andiamo insieme all'università che dire per essere vicino a qualcuno per cui ha una cotta Natsume ce la sta mettendo tutta pur di non farsi prendere dal panico ma il suo amore è proprio lì ok di qualcosa cosa dirà Natsume Ananas no basta un ciao dai sei fin troppo sciolto e disinvolto per questo dico cioè si magari un'attrazione ma rimane veramente fin troppo lucido e tranquillo e pacato per per sembrare veramente preso veramente trasportato da questa relazione secondo me è più una cosa così che fa parte insomma del ma sì anche Grayson sicuro e ci può stare nel senso per il numero massimo di volte ok va bene non puoi più acquisire tratti fra virgolette extra diciamo e secondo me ripeto ci può stare facciamo un'altra sfida dai stavolta cambiamo gioco fatevi un'altra partitozza ma perché comunque anche lui adesso non è più l'erede quindi comunque si è tolto un bel peso ecco Natsume ha una reputazione eccezionale è diventato un buon amico Aurelio è diventato un buon amico di Natsume ottima notizia poi i suoi figli comunque ormai sono tutti cioè bene o male in stradati no Natsume sta per andare all'università Prudence passerà d'età fra quanto ormai tre giorni sì ecco quindi perché ci stiamo chiudendo così tanto perché io vorrei veramente che arrivasse al livello 3 della carriera e mi completasse la sua aspirazione non fa parte ovviamente della challenge sapete che è più una soddisfazione personale però ma cosa dici non hai paura che insomma considerata l'età di tuo padre il tristo possa coglierlo all'improvviso ti prego Aurelio smettila ma stavo scherzando mazza belli scherzi de non te dico che bacio familiare rallegrala ma partecipa ovvio che partecipiamo vogliamo metterla un po' di musica abbiamo detto americana dai magari li facciamo ballare un pochettino tanto sono già quasi le 23 quindi facciamo americana alla mezzanotte direi che ci fermiamo qua con questo episodio volevo solo far arrivare lei al livello 4 a questo punto perché Natsume ha già fatto un bel passo avanti comunque un livello 9 no questo è lui oh mamma raga state calmi un livello 8 me l'ha ottenuto in logica poi c'è il carisma al livello 6 quindi non posso lamentarmi dai non lo stiamo messi così male secondo me e ascolta l'americana dai cioè proprio un animale da festa che cos'è crea qualcosa di qualità superiore alla scarsa crea qualcosa che non sia di qualità scarsa come un dipinto o un pasto delizioso i livelli di abilità superiore aiutano insieme a migliorare le creazioni ma si ci dedicheremo a un pasto magari Natsume che ne pensi poi cambiamo la stazione mettiamo quella retro retro via eh Caleb scusasse cosa vuoi da noi Caleb dai che così poi faccio divertire un po' anche lei che se no poverina è stata tutto il giorno a lavorare è che devi raggiungermi sto coso e parlare con un amico che vuoi che ti dica tesoro tra l'altro vorrei che ne parlasse con lui quindi eccolo qui spargi la voce sulle attività parallele ma non ce l'hai fatta a raggiungere il livello 4 vero dai manca pochissimo ti prego dai raggiungi il livello 4 e poi sei libera balla insieme su scatenatevi un pochino e poi prima di chiudere l'episodio controlliamo anche se annazume ti prego ti prego rimani concentrata raggiungi il livello 4 quanto ti manca si ottimo che hai fatto Grayson la credibilità è uno strumento infallibile per convincere gli investitori a separarsi dai loro sudati simoleon per finanziare la propria attività ora Prudence può usare il suo piano di impresa meticolosamente costruito e contattare investitori informali per i finanziamenti ce l'abbiamo fatto ce l'abbiamo fatta raga sembrava impossibile ma davvero ce l'abbiamo fatta corri in bagno che voglio fare gli ultimi controlli con tuo fratello intanto controlliamo che basta basta direi che controlliamo da qui senza mandarlo in camera ti prego tesoro quindi spostati tesoro schiodati da lì borse di studio controlla la domanda di borse di studio dai stile di vita rischio stacanovista e beh perché sei in ferie adesso cioè sei luna di miele loro si stanno proprio sbellicando raga cioè assurdo vieni qui dai balla basta farsi grassa risate venite qui e ballate e magari no come stringi ma perché dovresti stringere purun scusami conversazione profonda stato le borsche di Natsuma in sospeso ancora che due scatole eh dobbiamo aver pazienza raga dobbiamo aspettare quindi mandiamo Natsuma intanto solo in bagno tesoro dai fai veloce dopodiché vieni a parlare con tuo fratello allora dai delle tue dove l'avevo visto aspettate spargi voci sulle attività parallele vai chiedile se vuole unirsi a noi a sto punto scusami eh invita a ballare su tanto ormai qua così sono sicura che la nostra ha finito anche questo incarico sempre che vada bene perché lui in realtà è il fratello non è proprio un simamico non va bene questo si perfetto ce l'abbiamo fatta al lavoro fra due giorni raga che vi devo dire io ci spero non non posso avere nella certezza perché vedete che lei fra due giorni passa anche di età però ha le brutte anche questa è quella adolescenziale quindi vediamo un po' se ci riusciamo bene raga poi se non ci si riesce ripeto non è certo un obiettivo della challenge quindi possiamo star tranquilli veni qui tesoro magari immaginiamo che li faccio mangiare adesso io off camera perché sicuramente hanno fame un po' tutti e poi li mando a letto e avrà inizio una nuova giornata simica che tuttavia noi ci gusteremo nel prossimo episodio io solo a guardarlo sto piatto mi sento male però vieni qua e prendi una porzione fammi vedere chi ha più fame chi ne ha proprio più bisogno dai mangiate mangiate viene anche tu tesoro mangia a sto punto li faccio mangiare tutti dopodiché appunto concluderemo l'episodio io che dire è stato un episodio abbastanza lento perché comunque ci siamo concentrati sulle abilità che tuttavia però è la parte proprio centrale di questa challenge perché diciamo che in generale tutte le generazioni le varie generazioni sono concentrate sulle abilità perché appunto se devono raggiungere degli obiettivi però quella di Natsume è particolarmente impegnativa perché comunque dobbiamo raggiungere il livello 8 in ben 6 abilità e il livello 10 in ben 2 abilità quindi dobbiamo effettivamente darci molto da fare comunque noi ci fermiamo qua se questo episodio vi è piaciuto come sempre vi invito ovviamente a iscrivervi al canale mettere mi piace e lasciare un commento vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi la programmazione del mio canale che è un po' ballerina ma come potete vedere comunque i video stanno uscendo ma soprattutto c'è una sezione del mio canale contrassegnata da un cuoricino viola all'interno della quale trovate riferimenti a tutti i canali dei miei amici youtubers quindi mi raccomando andate iscrivetevi attivate le campanelline dei loro canali lasciate like commentate soprattutto sosteneteli perché il vostro sostegno per noi è veramente veramente importante quindi io vi ringrazio per aver visto l'episodio spero di non avervi annoiato troppo ma poi insomma la vita riprenderà come folle come sempre abbiamo ripeto come ho detto già nello scorso episodio tante cose da vedere Natsume sta per andare all'università insieme a Remulf spero di riuscire a coinvolgere anche Prune presto ci sarà il passaggio d'età anche di Prudence poi dovremo vedere i giovani sposini cosa come vivranno il fatto che Plumbob per il momento sembra non voler avere figli sembra un po' bloccato da sotto questo aspetto e come evolverà anche al tempo stesso la vita di Grayson e quella di Kyra io vi mando un abbraccio gigante vi ringrazio ancora vi auguro una buona giornata una buona serata secondo il momento in cui vedete questo episodio noi ci vediamo nel prossimo sul Sotsimers e non grazie grazie grazie